Benvenuti ragazzi alla seconda puntata di Boost Your Business Call Creative Pro Show e oggi parliamo di una cosa importantissima, parliamo della prima qualità delle persone di successo. Beh ovviamente chiaramente non si tratta per forza della prima, ma è una delle importanti qualità che deve avere una persona di successo. Le persone positive sono contagiose, si sa, colore che hanno passione, sono ispirati dal loro lavoro e sono sempre alla ricerca di un punto di vista positivo sulle cose, hanno la capacità di contagiare positivamente le persone intorno a loro, scatenando una reazione a catena che può compiere miracoli. Ragazzi questa cosa è la base di tutto, essere positivi nella vita, circondarsi di persone altrettanto positive è una cosa davvero importante per riuscire a creare una situazione, una predisposizione di tutto il vostro mondo, di tutte le cose che vi circondano per riuscire a raggiungere quello che volete. Ovviamente a volte si pensa che le persone di successo, gli imprenditori, i freelance di successo stanno lì a essere sempre positivi a ridere. No, ovviamente non è così, non siamo dei santi. Il fatto di essere positivi non vuol dire che i freelance o gli imprenditori non siano persone sottoposte a stress e a grandi dosi di caffeina e Red Bull per mancanza del sonno per far fronte a tutti gli impegni quotidiani e responsabilità costanti che si hanno è essenziale comunque mantenere un punto di vista sempre positivo. È importante questa cosa perché comunque i problemi nella vita, sul lavoro possono essere davvero molti e solo un atteggiamento positivo verso le cose è in grado di garantire una buona reazione e risoluzione di questo tipo di cose. Quindi ricordatevi la positività è contagiosa e può scatenare una vera e propria reazione a catena anche tra le persone che ci sono intorno a voi creando così un gruppo energetico, se così si può dire, di persone che si sostengono l'una con l'altra. Le lamentele sono il vostro limite, non vi limitate. Che cosa vuol dire? Vuol dire che nella vita e nel lavoro dovremmo limitare il più possibile le lamentele. Imparare ad eliminare del tutto le lamentele della nostra vita sarebbe la cosa più giusta da fare. Questo fenomeno del tutto umano non ha nessun scopo positivo, né per la vostra vita e nemmeno per il vostro business. Le lamentele non hanno nessun uso pratico e sono assolutamente inutili. Se vi lamentate fondamentalmente vi state solo sfogando con voi stessi ma in realtà questa cosa non vi aiuta in nessun modo, anzi vi allontana dal trovare una soluzione a quello che sta accadendo. Molti freelancer e imprenditori di successo sono convinti che approcciare i problemi con positività faciliti una visione più lucida delle cose, facilitando quindi a sua volta la risoluzione dei problemi. Quindi in genere se avete un atteggiamento positivo verso le cose, un approccio positivo, è più facile risolvere determinati tipi di problemi e in qualche modo anche crearsi delle opportunità. Il punto è che la lamentela è uno stato di difesa che limita il vostro successo e la vostra crescita. Il corpo si mette in una sorta di fase, di posizione, di difesa e non vi permette quindi di vedere oltre, di essere propositivi e quindi di cominciare a vedere delle soluzioni alternative. Ok? Quindi quello che dobbiamo andare a cercare è una sorta di benessere interiore, generale. Dobbiamo essere, oserei dire, zen, no? In qualche modo. Le persone positive, spesso e volentieri, sono anche le persone equilibrate a livello interiore. Essenziale quindi avere delle abitudini sane, un approccio alla vita positivo. Le persone negative, che poi sono quelle che amano lamentarsi, tendono a riflettere il loro essere negativo in tutto e per tutto. Dalla loro postura, al loro tono di voce, al modo di scrivere sui social e perfino nell'alimentazione. Ok? Quindi per poter essere così, tra virgolette, lucidi, dovete sentire, avere all'interno questa bolla energetica di benessere. Ok? Quindi cercate di avere una vita equilibrata dai pensieri che fate, all'alimentazione che fate, alle persone che frequentate, in genere anche come vi esprimete. Ok? Molto spesso ne abbiamo le palle piene di queste persone che soprattutto su Facebook si lamentano costantemente, attaccano tutti e tutto gratuitamente, senza uno scopo reale, no? Semplicemente per sfogare la loro frustrazione interiore. Ecco, cerchiamo di evitare tutte queste cose e di essere semplicemente delle persone più rilassate, ok? Un po' più equilibrate. E per poter fare questo bisogna imparare ad autogratificarsi, ok? Quindi dobbiamo nutrire in qualche modo il nostro subconscio. A differenza delle persone propositive e positive, quelle negative appunto tendono a buttare giù tutto e tutti, se stessi compresi. Questa polemica costante su ogni cosa genera una cappa di energia negativa che spesso può essere percepita anche intorno a loro. Queste persone non sanno nemmeno apprezzare le loro vittorie e quando lo fanno, forse in fondo, nemmeno ci credono più di tanto. Ok? È importante riuscire a valorizzare le piccole, le grandi vittorie che otteniamo ogni giorno. Possono essere anche delle sciocchezze, ma la cosa importante è dargli un valore, ok? Apprezzarle, perché se ci buttiamo costantemente giù, se non impariamo a apprezzare le piccole evoluzioni che facciamo quotidianamente, non nutriamo mai il nostro subconscio, non nutriamo mai la propria autostima e quindi sarà sempre più complesso semplicemente anche il pensare di poter raggiungere determinati risultati. Ok? Quindi queste persone negative che noi non vogliamo essere hanno in loro, io lo chiamo, il gene dell'autoflagellazione costante che non fa altro che limitare la loro crescita e le loro opportunità, come ho detto prima, nella vita. Le persone di successo, invece, hanno imparato ad autogratificarsi per ogni piccola conquista o vittoria che ottengono. Può sembrare stupido, lo so, ma concedersi una piccola ricompensa per aver raggiunto un obiettivo, piccolo o grande che sia, può avere un'influenza estremamente positiva sul nostro subconscio e soprattutto sulla propria autostima. E si sa, quando avete una buona autostima di voi stessi, è più facile anche semplicemente il pensare di poter arrivare a raggiungere dei determinati importanti nella vita. E questa cosa è importantissima perché la differenza tra persone che riescono ad arrivare a raggiungere determinati risultati e quelle che no è che molto spesso il primo gruppo, quello che arriva a raggiungere i risultati, riesce a visualizzare in maniera molto chiara e limpida la possibilità concreta di riuscire a ottenere determinate cose. Invece molto spesso quello che accumula le persone che non arrivano a ottenere determinati risultati è proprio il fatto che neanche riescono a visualizzare una remota possibilità di arrivare a ottenere determinate cose. Quindi, questione di frustrazione, avete la giusta strategia? Perché parlo di questo? Quando si cercano di fare tante cose insieme è quasi fisiologico che non si possano raggiungere grandi risultati. Il multitasking manda in tilt il cervello, a differenza di quello che si possa pensare, e fa partire un vero e proprio processo di stress mentale. Ok? Quindi un altro impedimento nel raggiungimento del successo e dei propri obiettivi è questo senso di frustrazione che viene scatenato dal cercare di fare troppe cose insieme. E a differenza di quello che potete pensare è stato scientificamente provato che il multitasking aumenta i livelli di stress nella nostra mente. E questo ovviamente non fa bene. Invece di lamentarsi quindi di non riuscire a fare qualcosa, proviamo a riflettere sul nostro approccio e sulla nostra strategia. Invece di pretendere di essere bravi in tutto, io vi consiglio di trovare quella cosa che ci appassiona davvero e nella quale sentiamo di poter eccellere. E concentriamoci solo su quella. Ok? Quindi molte persone, sempre tra quelle che riescono a raggiungere obiettivi importanti nella propria vita, a un certo punto si fermano, riflettono su in che cosa sono bravi veramente e puntano tutte le loro carte su quelle cose, su quel settore, su quella zona di azione. Ok? Senza pretendere di fare troppe cose insieme. Quindi qual è questo segreto della felicità? Il segreto della felicità, ve lo leggo un po' alla positività iniziale, perché può sembrare che chi è perennemente positivo è anche molto felice. In realtà in qualche modo sì, perché è una cosa tua interna, no? Quindi è una sensazione interna di positività e quindi di propositività. Il segreto per riuscire a fare tutte queste cose è avere il pieno controllo dei propri pensieri. Molte persone credono di non poter controllare la loro vita e si fanno trasportare dagli eventi. Accettare gli eventi per così come arrivano è una cosa che può portare ad un disastro sia nella vostra vita personale che professionale. L'essere umano ha la capacità innata di scegliere come reagire di fronte agli avvenimenti e sta a noi e a nessun altro decidere come interpretare quello che accade e sfruttarlo meno a nostro vantaggio. Tutto quello che ci succede intorno può essere interpretato da noi in prima persona. Io faccio sempre ai workshop che tengo sul freelancing e così via faccio sempre questo esempio. Immaginate due persone ferme per strada al semaforo aspettando che scatti il verde. È una giornata di pioggia quindi queste due persone sono anche bagnate dalla pioggia in quell'istante. La stessa situazione, lo stesso posto, gli stessi avvenimenti. Però una delle due persone è contenta e l'altra è incazzata perché piove, perché si bagna. E la prima ha scelto di essere contenta perché magari per questa persona la pioggia gli rievoca una sensazione di romanticismo o adora magari l'odore della pioggia, dell'asfalto o magari semplicemente è felice perché il giorno prima stava rinchiuso da 15 giorni all'ospedale e non vedeva l'ora di uscire fuori. Ok? Quindi la stessa situazione può essere interpretata in maniera differente. E l'uniche persone che possono decidere come interpretare gli avvenimenti intorno a noi siamo noi. Quindi quando ci succede qualcosa di brutto o di bello dobbiamo essere noi a decidere come utilizzare quella determinata situazione al fine dei nostri obiettivi. Quindi una volta che sappiamo dove stiamo andando non ci dobbiamo far buttare giù. Come si dice la cosa importante è come ti rialzi. Ok? Quindi la nostra capacità di adattarci e di sfruttare le situazioni a nostro vantaggio. Sei quello che dici? Ci avete mai pensato a questa cosa? Io lo scrivo spesso, no? Abbandonate i ma e i però. È indubbio che il tipo di parole che usiamo delineano in qualche modo il nostro essere. C'è una stretta correlazione tra un atteggiamento negativo e le nostre parole. Se ad esempio siete soliti fare il pieno di parole come ma e però e vi sfido provate a contare quante volte le usate in una sola giornata è impressionante. tenderete inevitabilmente ad essere delle persone che cercano delle scuse al punto dell'azione al posto dell'azione pura e concreta. Ok? Rifletteteci su questa cosa. È più facile trovare delle scuse piuttosto che agire. Ma andiamo avanti. coloro che usano spesso i termini come ah ma non si può fare eh ma non dipende da me eh che ci posso fare la colpa non è mia è di quell'altro se fosse per me farei così e bla bla bla. Queste persone diventeranno delle persone che non hanno il pieno controllo della propria vita e delle opportunità che gli si possono mettere davanti. La loro sorte nella testa di queste persone dipende soprattutto da qualcun altro. sono gli altri che sono responsabili per le loro opportunità o i loro fallimenti. E credetemi moltissime persone anche quelle che non pensano di far parte di questa categoria in realtà sono proprio intrappolati in questo meccanismo. In questo meccanismo in cui la colpa è sempre di qualcun altro. Il treno che abbiamo perso è partito prima di che perché la colpa di quello non è mai la colpa non è mai nostra. E invece il capire che dipende sempre ed esclusivamente da noi come reagiamo di fronte agli eventi. È vero ad esempio che non è colpa vostra se il vostro capo è uno stronzo che vi sfrutta. Ok? ma è responsabilità vostra decidere come reagire davanti a questa situazione. Ad esempio potete scegliere di subire potete scegliere di provare a dialogare col capo potete provare a leggere tra le righe che cosa vi sta criticando e magari migliorare. Potete decidere anche magari di lasciare il lavoro e buttarvi su altre strade. certo non sempre questa decisione è semplice ma spesso una decisione del genere porta a una grande libertà e indipendenza. Quindi insomma dipende dipende da caso a caso però soprattutto bisogna ricordarsi che siamo sempre noi quelli che interpretano le situazioni e decidono come reagire di fronte ad esse. Ok? quindi la domanda che vi dovete fare state scegliendo voi come state gestendo le situazioni oppure sono gli altri che stanno decidendo per voi? State cogliendo il punto di tutta la questione? Avere il pieno controllo dei propri pensieri è essenziale per sapere reagire nel modo giusto davanti a quello che vi si pone davanti. La forza delle parole ok? Scegli il punto di vista che preferisci. Imparare ad usare parole positive diminuisce i livelli di stress nell'organismo rilassa la nostra mente e ci apre la visione verso nuove opportunità. Potremmo dire che i pensieri negativi spengono la capacità di vedere le opportunità che ci sono intorno a noi e come spegnere la luce e non vedere più nulla. Chi tra di voi ha dei figli sa che spesso soprattutto nel weekend quando sono a casa con voi tutto il giorno i livelli di stress possono aumentare tanto. Vi sfido a provare a fare un esperimento. Provate a svegliarvi e la prima cosa è che vi dite oggi non perderò il controllo della situazione. capisco che sono dei piccoli bambini e cercherò di gestire la situazione col sorriso positività e con serenità. Ora forse non tutti lo sanno ma i bambini percepiscono tantissimo la nostra energia l'energia degli adulti un adulto anche se si innervosisce ma non dice niente i bambini lo percepiscono e se provate per un giorno intero a non innervosirvi a stare tranquilli a gestire le cose col sorriso dal punto di vista dei bambini quindi invece di arrabbiarvi ci giocate cercate di distrarli e inventare un nuovo gioco vedrete anche in loro un cambio radicale di atteggiamento anche loro molto probabilmente salvo ovviamente casi eccezionali saranno più tranquilli più rilassati e tutta la giornata in genere prenderà una piega completamente differente da maieri dallo stress che avreste potuto pensare e tutto questo solo perché decidete di essere positivi come ho detto all'inizio e usare delle parole consone affinché venga mantenuto in qualche modo l'equilibrio ok era solo un esempio per uscire fuori un po' dal tema del business quindi i pensieri positivi un approccio alla vita energetico e positivo accende la luce e ci fa vedere le cose da punti di vista diversi e pieni di opportunità quindi se da un lato lo stress equivale a spegnere la luce e non farci vedere più nulla il modo positivo di approcciare le cose invece accende la luce sulle cose e ci mostra nuove opportunità imparare a vedere le opportunità nella propria vita è una qualità da coltivare assolutamente è una qualità lo ripeto da coltivare assolutamente per chi vuole raggiungere livelli di soddisfazione nella vita di un certo tipo è troppo facile lamentarsi invece che sforzarsi nel vedere le opportunità sarete tutti d'accordo con me su questa cosa è troppo semplice lamentarsi e dare la colpa agli altri o a qualcun altro all'età alle mancate opportunità al background a quello che vi pare è troppo semplice lamentarsi piuttosto che agire e sforzarsi di vedere le opportunità è più facile essere delle persone negative che delle persone positive è più facile lasciarsi andare alla polemica o alla critica che rimboccarsi le maniche e affrontare le cose con un atteggiamento positivo atto a risolvere le situazioni e creare opportunità per se stessi e per gli altri ecco perché ragazzi l'essere positivi è una delle armi vincenti delle persone di successo grazie per aver ascoltato questa trasmissione iscrivetevi al canale youtube del creative pro show e ci vediamo alla prossima puntata ciao